Bentornati, bentornati sul canale, buon lunedì, lunedio a tutti. E sono arrivati, è arrivato l'esito degli esami di Akancianol, quindi ne parliamo chiaramente in vista della partita di mercoledì di Berna contro Young Boys. Adesso vi ricordo, campo sintetico, campo sintetico. Credo che l'Inter non giochi in un campo sintetico in Champions League dai tempi dell'Ushniki di Mosca, credo. Intanto voglio farvi sentire qualcosa, perché io ho ascoltato diversi commenti e tanto stupore all'ingresso in campo di Correa, soprattutto seguendo Air Club a Sky. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, no, credo, proprio nessuno si sarebbe mai aspettato l'ingresso in campo di Correa, ma chi vuoi che si aspettasse l'ingresso in campo di Correa? Ma chi si aspettava l'ingresso in campo di Correa? Questo tizio qui, far partire frattesi, comunque sono quelli lì. Per il resto di Marco e Darmiano sulle fasce, Pavar ha vinto il ballottaggio con Bissek, per completare la linea di difesa con Acerbi e Bastoni davanti, la Tula, e anche perché Taremi, che è il terzo attaccante, è tornato insieme a Lautaro, e c'è Arnautovic che può, secondo me, anche avere delle carte da giocarsi, e ha occhio a Correa, perché poi Correa non ci sarà a mercoledì con lo Young Boys e potrebbe anche avere più minutaggio del previsto. Un saluto. Eh, bentorni, eh, 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 occhi a Correa, eh, e infatti, e invece Correa non potrà giocare mercoledì, lui e Palazzo, se lo sappiamo, sono fuori a lista Champions, da lista UEFA per la Champions, chissà, chissà se potrà tornare dai convocati Buchanan, Ben, nel frattempo l'Inter perde i pezzi. Abbiamo parlato, eh, ne abbiamo parlato anche negli ultimi, negli ultimi video, eh, l'Inter perde i pezzi perché? Perché ieri si sono fatti male a Cervi e soprattutto a Cancianolo. Perché dico soprattutto a Cancianolo? Perché già l'Inter aveva perso Cielinski, già l'Inter aveva perso Aslan. E quindi, eh, il discorso dell'Inter però, vedete, sì, si entra, però chi si sta fatti male, però entra un titolare. Sì, ho capito, alla fine però finisco, non è che può ricontinuare fino all'infiato. Soprattutto quando te si fanno male, nei momenti di maggior congestione del calendario, quando hai bisogno di tutto. Quindi Aslanica adesso, magari con il Young Boys poteva essere la sua partita, non c'è. Ed è costretto, Inzaghi sarà costretto a fare qualche, qualche modifica. Nel frattempo vi leggo, eh, per chi ancora non lo sapesse, il comunicato sulle condizioni di Cancianolo. Lui, come informa il club benerazzurro, eh, il turco si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Humanitas di Rozzano per i classici accertamenti. Gli esami hanno evidenziato una elungazione agli adduttori della coscia sinistra. E dunque la situazione del centrocampista nell'Azzurro sarà valutata giorno dopo giorno. Un qualcosa che ci ricorda molto da vicino il problema a Celischi, che non era agli adduttori, Celischi non ricordo mai, era la flessori comunque alla coscia, la parte posteriore della coscia. E... out sicuramente a Can per lo Young Boys. Potrebbe tornare per la Juventus? Potrebbe tornare per la Juventus. Perché? Perché nel frattempo Celischi ha recuperato dal suo infortunio. Celischi aveva giocato martedì con la Polonia. Celischi si era fatto male il martedì. E... E mercoledì è a disposizione, quindi è una settimana. Celischi si è fatto male. Ieri già non stava benissimo, era già ciaccato proprio in quel punto, quindi... Era comunque da monitorare. Ecco perché lo vediamo uscire con le sue gambe e il cambio comunque è quasi gestito. Perché già si sapeva che Celischi non stesse benissimo. Se tanto mi dà tanto, potrebbe essere a disposizione per la Juventus. Chiaro che pensarlo titolare è difficile. È difficile, però è lo stesso tipo di infortunio di Celischi. È più un affaticamento che non qualcosa d'altro. Ieri in live qualcuno pure ho ascoltato, poi rivedendo video anche in televisioni privati, sta fuori un mese, contrattura sta fuori un mese. Ragazzi, se non sapete nemmeno le basi, non azzardate tempi... Contrattura sta fuori un mese, ma penso che nemmeno un bambino di cinque anni l'avrebbe detto. Quindi non allarmiamo senza motivo. La contrattura è l'infortunio meno grave che può esserci, no? Se non consideriamo infortunio un affaticamento, chiaramente. È proprio il livello più basso di problema muscolare la contrattura. Parlare di un mese fuori per una contrattura siamo veramente... A proposito, Acerbi invece, per lui la prima di anni è stata la contrattura alla coscia, a sinistra sempre, farà gli esami domani. Quindi su Acerbi si sarà di più domani. Ma è chiaro che Acerbi e Ciala saranno fuori per la Champions League. Anche Aslani, come vi dicevo, anche Aslani che ha avuto questa contusione, distorsione, non si è capito perché Inzaghi ha detto distorsione, poi in conferenza stampa ieri ha parlato di contusione. Comunque, vabbè, c'è un problema al ginocchio, diciamo così. Non sarà, evidentemente non sarà così enorme, ma tanto da tenerlo fuori anche per la partita con lo Young Boys. E quindi lui proverà a recuperare per la Juve. Quindi siamo a Aslani, per quanto riguarda il centrocampo. Aslani, Ciala fuori e Gelischi che forse ce la fa recuperare, forse ce la fa giocare titolare, chissà, vedremo. Quindi quattro centrocampisti, cioè rispetto a ieri esce Ciala e entra Gelischi. Non sta benissimo l'Inter, dobbiamo dire. Anche ieri ha finito la partita boccheggiando, un po' per le fatiche dei tanti nazionali, un po' per gli infortuni che hanno limitato i cambi nell'ultima porzione di match, e l'abbiamo visto, chi è entrato, quanto ha dato. In Champions non ci sarà anche Acervi, come detto, e non ci saranno Palasios e Correa. Quindi situazione un po' d'emergenza. Emergenza soprattutto a centrocampo, ma non tanto per la partita in sé, quanto per le rotazioni previste proprio in questa settimana di impegni, perché ci sarà chi ha giocato 90 minuti a Roma e avrà un carico di fatica. Ad esempio Barella. Barella veniva nell'infortunio, oggi si fa un mese dall'infortunio di Barella, e è tornato subito a 90 minuti, peraltro adattato in un ruolo non suo. E chi ci gioca lì con lo Young Boys? E ho capito che lo Young Boys, però devi giocare comunque in 11, e non è che c'è tutte queste alternative. Giocherà Barella là, per forza. E gli altri due posti si giocheranno Mkhitaryan e Frattesi e Celischi. Però appunto, ripeto, c'è chi ha già accumulato fatiche con le nazionali, poi fatica a Roma, si accumula pure tanta fatica con lo Young Boys, vuoi o non vuoi, peraltro campo sintetico vi ricordo. E do un consiglio. Ci sono scarpini, lo so che uno lo sa, però ci sono scarpini apposta da calcio, non da calcetto, con i tacchetti per i campi sintetici. Io da quando l'ho messi, perché con quelli da calcetto, sempre con i tacchetti, ma da calcetto scivoli, matematico, non hai trazione. Con quelli da calcio a 11, quindi con i tacchetti più, meno numerosi e più diversi, per parlare senza entrare nei tecnicismi, fai una fatica assurda, e non è questione d'età, articolazioni, schiena, fatichi tantissimo, perché vuoi o non vuoi, ultima generazione, quello che vi pare, resta un sintetico, il sintetico è duro. Ci sono gli scarpini fatti apposta, io spero che sappiano regolare alzì da quel punto di vista, perché è veramente fondamentale. Io da quando l'ho presi, è cambiata la vita, perché ormai pure dalle parti mie, i campi in erba naturale, noi per fortuna ce l'abbiamo, è da serie A. Qualcuno forse ha visto pure qualche foto. Pozzolana, che si è tenuta bene, per me resta ancora un terreno ottimo, anche lì sta scomparendo, e va fatta grossa manutenzione, altrimenti diventa il cemento. ormai sono quasi tutti in erba sintetica. Campi a 11 parlo, non parlo di calcio a 5, parlo di campi a 11. Erba sintetica bella, ve lo vedi da fuori, bello, guarda com'è, pesantissimo ragazzi, pesantissimo. Se non scegli la calzatura corretta, muori, proprio, cioè decedi. E quindi sarà un fattore, soprattutto per chi viene già con le fatiche accumulate, accumulate e dovrà guardare la partita, dovrà anche guardare alla partita con la Juve, e non è una partita banale, perché poi vi ricordo che c'è l'Empoli, perché uno, vedete come funziona il calendario all'inizio, eh però, vedete, sorteggia il calendario, sì quella settimana c'hai questo, però poi c'hai l'Empoli, e c'hai, chi altro? Il Verona, il Venezia, scusate. Eh, adesso vai a Empoli, vai a Empoli, dove la Juve ci ha pareggiato, dove nessuno ci aveva segnato prima del rigorino, col Napoli, che ha studiato sette camicie, quindi, non puoi lasciare niente, purtroppo, se si fanno male, tutti non repartono, quindi non è questione, ah ma come, non dicevi che la rosa dell'Inter era lunga, ah ma come, non dicevi grande, eh se si fanno male, cioè, se è come il detto, eh prima di morire era vivo, eh grazie, eh grazie, grazie a L, e grazie a K, eh, e quindi questo è quanto, eh vedremo domani, eh non ci saranno, credo, recuperi di sorta, io penso a un ampio turnover, Dunfriis, Carlos Augusto, in difesa, qualche minuto, sarà risparmiato bastoni contro la Roma, quindi magari, eh, giocherà ancora lui titolare, De Frey, per forza, eh, magari ci sarà spazio per Bissek, eh, a centro, davanti, tra Arnatovic e Taremio, uno dei due gioca sicuro, magari tutte e due, immagino io, eh, occhio a centrocampo, perché centrocampo, veramente c'è da, c'è da capire, c'è da fare, c'è da fare, c'è da fare, un saluto.